Buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando dei numeri dell'emergenza sanitaria perché sono 18 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Abruzzo. C'è anche un nuovo ingresso in terapia intensiva, fermo invece a quota 473 il numero dei deceduti con l'ultimo in ordine di tempo nel comune di Castiglione Messerraimondo. In Abruzzo sono 18 i nuovi casi di positività al Covid-19 scovati, analizzando i tamponi nelle ultime 24 ore. I nuovi pazienti hanno un'età compresa fra i 15 e gli 82 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti fortunatamente resta fermo a quota 473, mentre nei 4.052 casi positivi al Covid-19 registrati nella nostra regione da inizio emergenza sono comprese anche 2.973 dimessi e guariti, più 3 rispetto a ieri, e 2.955 persone che hanno risolto i sintomi dell'infezione. Gli attualmente positivi in Abruzzo dunque calcolati, sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi e guariti e dei deceduti, è di 606 con un aumento di 15 unità rispetto a ieri. 42 persone, numero invariato, sono ricoverati in ospedale, di cui 5 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 559 più 14 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorviglianza attiva da parte dell'Asl. Del totale dei casi positivi, 570 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 4 rispetto a ieri, 951 in provincia di Chieti, più 1 rispetto a ieri, 1748 in provincia di Pescara, più 8 rispetto a ieri, 749 in provincia di Teramo, più 4 rispetto a ieri, 32 provengono da fuori regione con un aumento di 1 unità rispetto a ieri, mentre per una persona sono ancora in corso le verifiche sulla provenienza. Al netto dei riallineamenti e delle verifiche di residenza, i casi di oggi fanno riferimento alle province dell'Aquila 3, Chieti 1, Pescara 8, Teramo 5, di fuori regione 1. Da inizio emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 178.556 test. E anche in Abruzzo la mobilitazione nazionale dei lavoratori della sanità privata. I sindacati si scagliano contro IOP e ARIS e chiedono, dopo ormai 14 anni, il rinnovo dei contratti. Di nuovo in piazza, gli operatori e le operatrici della sanità privata. Quest'oggi si sono riuniti con le bandiere dei sindacati davanti alla casa di cura Villa Serena a Città Sant'Angelo. La titolare della clinica, Concetta Petruzzi, infatti, è la presidentessa dell'AIOP Abruzzo, l'associazione dell'ospedalità privata. Villa Serena oggi è il punto di riferimento dell'AIOP Abruzzo, per cui noi abbiamo inteso manifestare di fronte a questa struttura e non ad altre, perché rappresenta quella controparte che nega il contratto ai lavoratori della sanità privata in Abruzzo. Per noi questa è la parte più importante. Da dire che rifiutandosi di firmare un contratto discusso e la cui posizione era stata accettata da tutte le parti al tavolo e il 30 di luglio ritirarsi ha creato ulteriore astio dei lavoratori nei confronti di questi signori. Ed è contro l'AIOPELLARIS, l'associazione religiosa degli istituti sociosanitari, che i sindacati puntano il dito. Dopo 14 anni senza il rinnovo dei contratti e un lunghissimo periodo di trattativa, i magnati della sanità privata si sono rifiutati di firmare, pretendendo che a pagare siano le regioni, ovvero il pubblico. E' questo il casus belli dell'ennesima mobilitazione nazionale. Il contratto è stato fisicamente sottoscritto nella forma dell'intesa, quindi il contratto prevede la parificazione sia dal punto di vista salariale che dal punto di vista dei diritti dei lavoratori, la parificazione con le professioni sanitarie del pubblico impiego. Pertanto dopo 14 anni di vacanza del contratto, dopo 3 anni di trattative serrate, dopo più interventi da parte del Presidente della conferenza Stato-Regioni, nonché dal Ministro della Salute, che hanno dato certezze alla parte datoriale per il proseguo della sottoscrizione del contratto, noi oggi siamo indignati e pertanto in tutta Italia 100.000 lavoratori della sanità privata protestano perché richiedono a gran voce dignità dal punto di vista lavorativo. Insomma, l'accordo era stato raggiunto, ma all'ultimo momento i grossi imprenditori si sono tirati indietro, mentre coloro che fino a qualche mese fa erano chiamati eroi o angeli per il fatto di svolgere la propria professione durante la pandemia, si ritrovano ora in mano un pugno di mosche. Non si era mai visto che un datore di lavoro si trottasse a un impegno sottoscritto con un'intesa, con le parti sindacali. I lavoratori, le lavoratrici della sanità privata sono stufe di avere a che fare con un'imprenditoria che prende soltanto. Ricordiamo che stiamo parlando di sanità pubblica, sanità privata accreditata. Queste lavoratrici e questi lavoratori garantiscono la sanità e la cura dei cittadini della nostra regione, ma di tutta Italia. Quindi noi pensiamo che se le associazioni imprenditoriali, IOP e ARIS, non ripensano a questo atteggiamento, non saremo disponibili a concedere alcunché, andiamo avanti nella rivendicazione di giusto salario e giusto diritti. Non è sopportabile per queste persone vedersi trattati in questa maniera. All'Università di Teramo si torna alla normalità ma in sicurezza. Da oggi si susseguiranno le cerimonie di consegna delle pergamene ai laureati durante il periodo di lockdown. Emozione tra il pubblico in Aula Magna anche per il videomessaggio del ministro Manfredi. Le lezioni in presenza riprenderanno il prossimo 5 ottobre. Una grande emozione all'Università degli Studi di Teramo. Per studenti, professori, e per il personale tutto. In attesa di riprendere in presenza le lezioni previste per il 5 ottobre, da oggi si susseguiranno le cerimonie per la consegna delle pergamene. A riceverle coloro che hanno conseguito la laurea durante il periodo di lockdown. Rettore, che emozione! Intanto le lezioni rinizieranno il 5 ottobre e oggi ricominciano le cerimonie di laurea. Sì, è veramente una sensazione bellissima. È stata una scommessa, ovviamente devo dire concordata con i tanti laureati sia della sessione di aprile che quella di luglio che quotidianamente e giustamente ci chiedevano un segnale di festa per questo evento che penso essere uno dei più importanti della vita. Ci abbiamo lavorato alacremente e devo dire che vedendo i risultati, stamattina sia il colpo d'occhio dell'Aulamagna, ma anche il rispetto di tutti i protocolli, devo dire che il risultato è quantomeno apprezzabile. Come andrà il nuovo anno accademico? Il nuovo anno accademico ovviamente è pieno di incognite, complicate anche dalle ultime linee guida che giustamente impongono la tracciabilità e la gestione di eventuali casi. Quindi noi ripartiamo con la fiducia piena che il semestre possa iniziare in presenza e chiudersi in presenza. Ovviamente qualunque problema siamo pronti nell'arco di qualche minuto ad affrontarlo. Ci sono già le cosiddette aule covid, quindi l'eventuale caso sospetto va direttamente in un'aula riservata e poi viene avvertita l'autorità sanitaria. Però devo dire che con uno sforzo enorme quasi tutte le aule sono capienti per tutti i ragazzi che vogliono seguire. E ad emozionare il pubblico presente in aula magna arriva anche il videomessaggio del ministro dell'università Gaetano Manfredi che infonde speranza di ritorno consapevole alla normalità. Per i neolaureati oggi è comunque festa grande. Che giorno è per lei questo? Un giorno importantissimo, pieno di soddisfazione. Hanno organizzato questa cerimonia splendida, sono molto felice. Parliamo di politica adesso. Il Partito Democratico punta l'indice contro la Regione e sul definanziamento del masterplan per area di risulta e discarica di Villa Carmine. Il consigliere regionale Antonio Blasioli ha inviato una difida ad Arap. No al definanziamento di due importanti interventi nella provincia di Pescara, quali sono la riqualificazione dell'area di risulta di Pescara e la bonifica della discarica di Villa Carmine fra Montesilvano e Città Sant'Angelo. Di questo si è parlato questa mattina in conferenza stampa a Pescara presso la sala consigliare del comune con i consiglieri regionali e comunali del Partito Democratico che hanno illustrato è detto che le delibere di giunta regionale 416 del 15 luglio 2020 e 535 del 31 agosto 2020 mettano a forte rischio i due interventi. La Regione Abruzzo revoca i fondi masterplan e induce gli enti e le stazioni appartanti a sottoscrivere una convenzione di progettazione del 7% dei fondi che erano stati dati dalla giunta di centrosinistra. Quindi per esempio per il comune di Montesilvano, per l'Arap, in particolare, dei 10 milioni circa 700 mila Euro, per quanto riguarda l'area di risulta di Pescara il 7% di 12 milioni di Euro. Perché noi richiediamo invece di non sottoscrivere questa convenzione? Prima di tutto perché l'area di risulta è un appalto in concessione dei lavori, significa che chi parteciperà al bando produrrà la progettazione. Firmare una convenzione del 7% per la progettazione è del tutto inutile per l'area di risulta, perché progettazione non c'è, tutto è stato compiuto. Quindi al Sindaco Masci gli chiediamo di assumere coraggio, di non sottoscrivere la convenzione, di fare causa eventualmente alla regione sulla base di un emendamento che ho presentato e che salvaguarda gli enti locali sottoscrittori della convenzione o di trovare altre soluzioni. Per l'Arap di Montesilvano invece noi abbiamo mandato una specifica diffida formale a sottoscrivere questa nuova convenzione, perché l'Arta proprio qualche giorno fa ha avuto modo di dire del perdurante inquinamento del fiume Saline e quindi del mare e della necessità di opere di messa in sicurezza di emergenza, in particolare il barrieramento idraulico. Firmare anche qui una convenzione di progettazione non ha senso perché non consentirebbe l'utilizzo di quei fondi per le opere di messa in sicurezza di emergenza. Parliamo di elezioni e elezioni amministrative perché domenica e lunedì si vota anche al comune di Montorio al Vomano, turno unico, tre i candidati. Vediamo un estratto dell'appello del candidato che andrà in onda domani sera a partire dalle ore 20 e 10, le interviste della nostra Tania Bonnici Castelli ai tre aspiranti candidati alla poltrona di primo cittadino. Essendo Montorio un comune con meno di 15.000 abitanti si vota con un sistema maggioritario e turno unico, viene eletto cioè chi ottiene il maggior numero di voti. Il 20 e il 21 settembre prossimi si voterà per rinnovare il Consiglio Comunale e per eleggere il nuovo sindaco dopo la caduta dell'amministrazione di centrodestra guidata da Egno Facciolini. Tre candidati sindaci in corsa, Fabio Altitonante, Alessandro Di Giambattista e Eleonora Magno. Fabio Altitonante e il suo slogan, la forza del fare, quale sarà questo fare? Ricostruire Montorio, oggi siamo in uno scorcio del colle, fino al 2009 ci vivevano mille persone, sono passati più di 10 anni, siamo ancora a zero, la ricostruzione è ferma, migliaia di cittadini non vivono più a Montorio, non ci sono più servizi per attrarre i turisti e in ultimo Montorio nemica delle imprese, non si creano posti di lavoro da anni. Le novità del suo programma quali sono? Se le volesse condensare in poche parole? Non sono un marziano, non ho la bacchetta magica, però quando hai la forza del fare e il comune di Montorio ha tutte le risorse all'interno del proprio bilancio che non sono utilizzate da anni, abbiamo una visione chiara sulla ricostruzione e la faremo nei prossimi 5 anni, abbiamo una visione chiara su come far tornare le imprese a Montorio e abbiamo una visione chiara su come attrarre i turisti. A Montorio non c'è nulla da inventare, abbiamo una posizione strategica straordinaria, siamo a mezz'ora dal mare, mezz'ora dal lago, mezz'ora dalla montagna e abbiamo il fiume Vomano. Bene, partiamo dalla valorizzazione di quello che abbiamo. Alessandro Di Giambattista è stato già sindaco di Montorio al Vomano anni fa in rappresentanza del centro-sinistra. Sono stato sindaco 10 anni a Montorio e 10 anni assessore, quindi penso di poter spendere la mia esperienza a favore del comune di Montorio perché dopo due commissariamenti consecutivi ritengo che Montorio abbia bisogno di stabilità e di un'amministrazione che duri 5 anni per portare a termine i progetti che ci prefiggiamo. I progetti del suo programma? Principalmente c'è il bisogno di far ripartire la ricostruzione per riportare a Montorio quanti più residenti possibili. Dopodiché un intervento serio sul centro storico, un rilancio del centro fiume, quello utilizzabile, è stato inaugurato dal sottoscritto nel 2005, quindi credo fortemente in questo progetto. Poi rimettere Montorio al centro degli interessi della provincia di Teramo e quindi soprattutto dell'entroterra Teramano attraverso un ricollocamento di Montorio negli assi della viabilità veloce, quindi la costruzione di un casello autostradale che guardi verso Montorio e il prolungamento dell'otto zero. Eleonora Magno, il suo slogan recita insieme con slancio verso il futuro, ma quale sarà questo futuro secondo lei? Un futuro di ricostruzione, ricostruzione globale, questo vorrei precisarlo, quindi non soltanto ricostruzione di edifici privati e pubblici, che pure sono una necessità impellente, che tutto riprenda immediatamente forma e che si consenta a chi è andato via dopo gli eventi sismici di rientrare, è la priorità. Lei che promesse fa? Di avere un progetto che integri una serie di interventi, gli interventi devono partire tutti contemporaneamente, ricostruzione certamente fisica, attenzione al decoro e quindi alla manutenzione ordinaria non solo del centro, ma anche di tutte le frazioni di Montorio, perché deve essere un luogo con caratteristiche di servizi, di attenzioni che rendano alta la qualità della vita e tutto questo deve favorire il turismo, un nuovo modo di fare turismo, noi puntiamo al turismo verde, al turismo lento, lento che è l'espressione cui tengo, perché è in opposizione a un idea di sviluppo che si accordava con il progetto autodromo-motodromo e invece qui noi lavoreremo sul recupero dei sentieri, del tratturo, delle mulattiere per creare un circuito che si metta d'accordo con il turismo agribio, con una filiera corta di produzione aziendale e quindi far fiorire quelle che sono le nostre vocazioni. 25 studenti del liceo Spaventa di Città Sant'Angelo questa mattina hanno incontrato i dirigenti della Polizia Stradale per una lezione sulla sicurezza al volante. Inizia con la Polizia, l'anno scolastico di 25 studenti del liceo Spaventa di Città Sant'Angelo. Incontro questa mattina in comune con i dirigenti della Polizia Stradale con l'obiettivo di inculcare nei giovani il rispetto della legge. Non basta più reprimere, dice un uomo in divisa attraverso uno schermo. In questo caso il tema è circoscritto alla sicurezza al volante. I ragazzi infatti, tutti i neomaggiorenni, sono nel periodo in cui si può conseguire la patente. Quest'anno, questo incontro viene veramente importantissimo perché noi comunque con l'amministrazione comunale, con le altre associazioni, con le istituzioni del territorio stiamo organizzando una scuola, un'educazione diffusa perché con il covid e con le problematiche ad esse connesse, noi comunque abbiamo fatto uno sforzo progettuale anche di aggregazione delle discipline. E partire con un'attività laboratoriale che è collegata all'educazione civica, alla sicurezza stradale, al benessere dei ragazzi, è anche un modo per abituarli alle regole condividendole. E in questo momento condividere le regole, sentirle proprio è fondamentale. Secondo l'Istat, nel 2018, ultimo anno di cui sono disponibili i dati, in Abruzzo si sono verificati 3.145 incidenti stradali che hanno provocato 76 morti e 4.683 feriti. Dalla sala consigliare di Città Sant'Angelo, gli studenti si sono collegati telematicamente con il Conservatorio Cascella dell'Aquila e il Liceo Romita di Campobasso. Investire su quella che può essere la formazione, l'informazione a questi giovani ragazzi che si approcciano a quello che è la vita al di fuori di quella scuola è una forma importante perché riesce a garantire una situazione di maggiore sicurezza per le macchine e soprattutto per la viabilità. Orsogna, Crecchio, Guardia Grele e Ortona sono i quattro comuni coinvolti nella terza edizione del Festival Internazionale degli Abruzzi che si terrà dal 18 settembre al 4 ottobre che è stato presentato questa mattina a Pescara. Terza edizione del Festival degli Abruzzi, un appuntamento che si ripete, si rinnova, Assessore, un appuntamento che vuole portare e vuole far vedere le bellezze della nostra regione anche fuori dai confini regionali. Assolutamente sì, ci tenevamo che si svolgesse, ringrazio gli organizzatori perché nonostante il clima che c'è, le difficoltà legate al codice, chiaramente si porta avanti. Peraltro coinvolge quattro bellissimi borghi del nostro Abruzzo, borghi importanti, borghi che non sono belli non solo dal punto di vista architettonico e naturalistico ma anche perché rappresentano in pieno le nuove astronomie del territorio. ci tenevamo perché peraltro si rivolge ad un mondo particolare, un mondo dell'arte che riesce a costruire, a realizzare e a oltrepassare i confini dell'altra sponda dell'Adriatico. Direttore, vogliamo spiegare il senso di questa manifestazione Art in Vita, una manifestazione che ha programmi e progetti ambiziosi? Essendo spesso gli artisti persone libere, riescono a stare veramente in contatto con il mondo, a captare quelle che sono le esigenze del contemporaneo per capire, per trasmetterci come riuscire a vivere meglio nel futuro. Quindi sono molti gli spettacoli quest'anno di performative, contemporanee sempre, abbiamo una pubblicazione di un libro in cui cerchiamo di connettere il mondo degli anziani con quello delle arti contemporanee, lavoriamo molto con le scuole, quindi cerchiamo sempre di creare dei ponti generazionali tra quello che sarà il futuro del nostro territorio, che stiamo cercando in qualche modo di coinvolgere sempre di più, perché come dicevamo in conferenza è un territorio che può accogliere, che secondo me non ci rendiamo conto io in primis d'Abruzzese di quello che abbiamo intorno e possiamo valorizzarlo veramente molto e grazie a questo festival lo facciamo in quattro comuni, connettendo tutti questi comuni tramite la strada Marrucina che collega la Maiella con il mare Adriatico, quindi oltre a quello che noi facciamo direttamente con gli spettacoli cerchiamo di promuovere anche i posti dove si svolge il festival. Le opere di Pasquale, Raffaello e Luigi Celommi sono state digitalizzate e mostrate così a tutti sul web. Una galleria d'arte online, quella dove sono conservate le opere dei Celommi, la famiglia di artisti legata a Roseto degli Abruzzi. Una volta digitalizzate le opere saranno così disponibili a tutti. Un portale che raccoglierà, insomma mira a raccogliere tutte le opere di Pasquale, Raffaello e Luigi Celommi, certo non è un'opera facile perché abbiamo fatto una stima di circa 6 mila opere e se riusciamo a rintracciarne una bella parte è già un gran lavoro. Per il momento siamo partiti con Pasquale Celommi e Pasquale Celommi abbiamo fatto una stima che ci siano duemila opere in giro per il mondo. Noi abbiamo circa 300 foto di quadri, però una gran parte di queste foto ancora non sappiamo né dove sono collocate né conosciamo altre indicazioni di queste opere. Ed è per questo che chiunque si ritrovasse un quadro firmato Celommi può scrivere una mail a catalogazione.celommi.it. Tra gli autori della Galleria Digitale, storici d'arte, giornalisti, catalogatori, restauratori, il tutto tramite finanziamento della fondazione Tercas con il patrocinio della provincia di Teramo e del comune di Roseto degli Abruzzi. Il lavoro è già partito da un po' di tempo, da un anno circa. Il 25 settembre presentiamo questo lavoro fatto fino ad oggi. Adesso apriamo la pagina di sport e andiamo allo stadio Mariani Pavone di Pineto dove si sta giocando. L'amichevole tra il Pescara e la Terrano. Abbiamo in collegamento il nostro Paolo Renzetti. Buonasera Paolo. Allora, mentre vediamo un po' di immagini del primo tempo che ha visto il gol per i Biancazzurri di Cristian Galano, raccontaci un po' come è andata la prima frazione. Lì, presumibilmente, siamo già a metà della seconda. Sì, sì, grazie Jacopo. Buonasera, buonasera dal Mariani Pavone di Pineto dove si gioca il ventitresimo minuto nel corso della ripresa. Ribadisco il parziale Pescara, uno Ternana, zero. Il gol, come dicevi giustamente tu, segnato nel primo tempo al ventitresimo da Galano in contropiede. Pescara che sta facendo la partita al cospetto della formazione rosso-verde. Pescara che ha avuto anche delle occasioni per il raddoppio in grande evidenza in casa bianca, azzurra, soprattutto Masciangelo, l'onda lunga del rigore che ha regalato la salvezza al Pescara nella gara dello stadio Renato Curi di Perugia. Continua per l'ex giocatore della Juventus, Ander 23, che questa sera è stato fino a questo momento almeno il migliore tra i suoi da rilevare. Jacopo, anche la buona prova di Seterre nella prima parte del primo tempo anche di Maestro che questa sera ha esordito ufficialmente con la maglia del Pescara, l'ultimo arrivato in casa abruzzese dalla Salernitana via Lazio. Vediamo quali sono state le formazioni con cui le due squadre sono scese in campo. Il Pescara nel primo tempo 4-3-2-1 con Fiorillo in porta, Ventola, Drudi, Cognamiglio e Masciangelo. A centrocampo Diambo, Valdifiori, Omeonga, Galano e Maestro sulla tre quarti con Seterre di punta. 3-4-2-1 per le fere con Iannarilli in porta, Furlan, Sini, Suagher e Bergamelli in difesa, Defendi, Salzano e Paghera a centrocampo. Torromino vantaggiato e Partipilo in attacco. In questa ripresa ci sono state delle sostituzioni nel Pescara del Favero al posto di Vincenzo Fiorillo e del Favero è stato autore sette minuti fa, Jacopo, di una grandissima parata su colpo di tacco ravvicinato di Vantaggiato. Altra sostituzione fra i Biancazzurri, Busellato al posto di Omeonga. Nella Ternana sono usciti tutte e tre gli attaccanti, ovvero Torromino vantaggiato e Partipilo sostituiti da Ferrante, Falletti e Marilungo e Paghera, ex giocatori del Lanciano, ma ci sono anche ex Biancazzurri come per esempio Ferrante, che pur l'attuale giocatore della Ternana non abbia mai esordito con la maglia e Biancazzurra. Un solo ammonito in questa partita diretta da Ursini di Loreto a Brutino, si tratta dell'ex Lancianese Paghera. Siamo al minuto numero 25 di questa partita, dunque il parziale a 20 minuti dal termine di questa gara amichevole, seconda uscita stagionale per il Pescara. Pescara 1, Ternana 0, ricordo il gol realizzato al ventitresimo del primo tempo da Galano, da Pineto è tutto, linea allo studio. Grazie, grazie Paolo, ovviamente il servizio della partita nell'edizione delle 23 del nostro telegiornale, peraltro Pescara che al Mariani Pavone replicherà in un triangolare con Pineto e Vastese sabato pomeriggio, sempre alle 18. Terrà la formazione di Lega Pro che ho già visto sorteggiati i calendari. Partenza impegnativa per il Teramo che all'esordio avrà il Palermo al Bonolis e alla seconda giornata andrà al San Nicola di Bari. Ultimo avversario la Viterbese dell'ex Agenore Maurizzi per un torneo con tantissimi turni infrasettimanali. Un avvio dal fascino indiscutibile, il Teramo parte al Bonolis il prossimo 27 settembre contro una neopromossa che però tutto è, tranne che una matricola, il Palermo. Saranno i rosa-nero, reduci dal successo dell'Interregionale ad inaugurare la stagione della ripartenza vera del campionato di Serie C Biancorosso. Squadra che punta subito al doppio salto e dunque avversario difficilissimo, in uno stadio quello di Piano Daccio che sarà certamente ancora a porte chiuse. Così come lo sarà il San Nicola di Bari alla seconda, perché è lì che il Teramo si recherà al turno numero due per un avvio al Cardiopalma. Terza giornata sarà il primo infrasettimanale il 7 ottobre con l'incognita, certamente tra le mura amiche, ma quella Y dovrebbe rappresentare una tra Bisceglie e Foggia che hanno ancora dieci giorni di tempo per regolarizzare l'iscrizione dopo che il Consiglio federale le ha reinserite tra i professionisti. Tanti gli infrasettimanali per chiudere la stagione nei tempi previsti, doppia trasferta a fine novembre tra la dodicesima e la tredicesima contro la Ternana Liberati e la Virtus Francavilla, prima di un rush finale per il diavolo dal sapore molto campano. Turris, Cavese, la X e l'Avellino. Chiusura all'Enrico Rocchi il prossimo 17 gennaio contro la Viterbese dell'ex Agenore Maurizzi, prima del girone di ritorno. Alla presentazione il presidente della Lega Pro Ghirelli è tornato sulla composizione di ieri dei gironi e sulle polemiche sollevate dal Teramo per essere stato inserito ancora a Meridione. Sono cinque anni e cinque campionati che si fa questo taglio da questo punto di vista. ci sono stati altri società che capiscono la loro amarezza rispetto alla suddivisione, penso il Teramo, penso la Viterbese, penso la Ternana, però lì purtroppo c'è la latitudine e quindi quello è. Però lo voglio dire perché il lavoro che abbiamo fatto è la congiunzione di una serie di elementi molto semplici, il fatto che non ci fosse un'indicazione maggioritaria rispetto a quale tipologia di girone ed era difficile andare ad un cambiamento. Ci siamo presi un impegno per il prossimo campionato di lavorare in modo tale da ragionarsi rispetto al format e alla suddivisione. So benissimo che con questo non faccio nessun elemento di togliere il malcontento che vi è, che è anche ragionevole in questa direzione. Però rispondo alla domanda. Il campo è l'unico che dà una valutazione, vedremo anche nel girone C, ci sono squadre di grande lignaggio e di grande storia dal punto di vista. Il vero problema è che questa serie C quest'anno è un campionato fortissimo complessivamente. Girone di ritorno che parte il 24 gennaio con la sfida al Barbera di Palermo, chiusura della stagione regolare il prossimo 25 aprile. E in serie di oggi sono stati invece sorteggiati i gironi. Le cinque compagini abruzzesi sono state inserite come ormai da tradizione nel girone F. La novità è l'inserimento di quattro squadre laziali e una campana. Sabato pomeriggio alle 14 saranno sorteggiati invece i calendari. Quattro laziali ed una campana. Le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi hanno trovato conferma quando poco dopo le ore 14 sui profili social il comitato interregionale della Lega Nazionale Direttanti ha diffuso la composizione dei nove gironi di serie D. Le compagini abruzzesi come da tradizione disputeranno il girone F. Una rappresentanza sottiliata rispetto allo scorso anno con la presenza della neopromossa Castelnuovo al suo debutto assoluto in quarta serie e le defezioni delle retrocesse Avezzano e Chieti. Cinque dunque le nostre rappresentanti, Pineto e Notaresco che ambiscono ad un campionato importante, la matricola Castelnuovo che ha tanta voglia di stupire, il Giulianova che si ripropone per una tranquilla salvezza e una vastese che deve metabolizzare l'immediato cambio in panchina con il ritorno di Silva al posto di Agovino. Confermate le presenze di squadre molisane e marchigiane tra le rappresentanti del Molise, le stesse dello scorso anno, il Campobasso che punta al salto di categoria e poi il Vasso Girardi ed un'Olimpia agnonese partita in ritardo dopo la brillante ultima stagione. Si assottiglia anche il drappello di team marchigiani che scendono da 7 a 5 dopo il ritorno in Serie D del Castelfidardo, la promozione in C del Materica e le retrocessioni in eccellenza di Jesine e Sangiustese. Dunque ci sono la Re Canatese, altra pretendente alla vittoria finale, Montegiorgio, Castelfidardo, Porto Santelpidio e Tolentino. A completare il raggruppamento la Campana FC Matese, vincitrice dell'ultimo campionato di eccellenza a Molisano dove era stata inserita e frutto della fusione tra Comprensorio Vairano e Treppini Sporting Matese. La novità principale è l'inserimento di quattro laziali. Alla confermata Fiuggi, già lo scorso anno nel Girona F, si aggiungono l'appena retrocesso Rieti e poi Aprilia e Cinzia Alba Longa. Finisce nel Girona G il Latina, big che alcuni rumors davano proprio nel Girona F. Ora si attendono i calendari che saranno sorteggiati questo sabato alle ore 14 sempre sui canali social LND per un campionato che partirà il prossimo 26 settembre. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con l'informazione del TG6 alle ore 23, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata. Grazie.